benvenuti da CIG di crypto investing guide volete sapere realmente qual è il motivo del crollo del prezzo di bitcoin e molti mi pongono questa domanda e tutti affermano varie informazioni che compongono questo crollo del valore del bitcoin in realtà possiamo notare questo il vero motivo del crollo del bitcoin è imputabile non solo a affermazioni relative al fork di bitcoin cash oppure al fatto che ci sono gli speculatori diciamo di un certo livello che agiscono tramite over the counter comprando vendendo determinate quantità al fine di abbattere il prezzo per comprarlo nel momento migliore quindi rientrare nel mercato delle cripto là dove potrebbe interessare in realtà il 14 di novembre il presidente del fondo monetario internazionale Christine Lagarde ha comunicato o ha dato comunque la sua il suo pensiero indirizzato alle banche centrali le banche centrali dovrebbero secondo Christine Lagarde tutte utilizzare criptovalute ebbene il 14 di novembre andiamo subito nel grafico e notiamo che corrisponde il 14 novembre proprio al crollo del prezzo del bitcoin il prezzo bitcoin da quel momento non si è più ristabilito o comunque il suo trend principale che vedeva come valore di precedente alla notizia di 6400 dollari è crollato a circa 4000 e il trend purtroppo è ancora ribassista l'affermazione del 14 di novembre del dell'amministratore delegato del fondo monetario internazionale Christine Lagarde è quindi quello del il suo parere quello che i governi e le banche centrali dovrebbero esaminare l'emissione di valuta digitale sostenuta dallo stato assistendo quindi al passaggio globale all'economia senza contanti ma soltanto l'utilizzo di tipo digitale naturalmente queste criptovalute del indette affermate da Christine Lagarde sarebbero delle criptovalute decentralizzate in questo momento quindi mettetevi nei panni di chi sta investendo anche nel mining oppure nello stake o comunque dando un servizio alla rete per avere una certa stabilità e garanzia di sicurezza delle transazioni si pone il dubbio ma allora che ci stiamo a fare oggi cioè se le criptovalute decentralizzate non avranno più motivo di esistere ma qualcuno ti sta dicendo ci penserò io a gestire le criptovalute il mercato ha reagito in questo in questo modo naturalmente poi ci saranno state sicuramente le speculazioni che hanno sostenuto queste queste vendite ma la psicosi la paura del mercato è sicuramente dovuta anche a queste a queste è stata dovuta anche a queste affermazioni attualmente comunque l'economia digitale è interamente dipendente dal settore finanziario di tipo privato fornendo comunque ai pochissimi poteri di pagamento dei fornitori privati un'abbondanza di potere se poi persone dovessero passare al denaro digitale queste svaluterebbero significativamente l'infrastruttura esistente quindi del mining dei pc casalinghi che detengono il full node oppure dello stake in questo caso il capo del fondo monetario internazionale ritiene che l'introduzione di questo sistema sia un modo per le banche centrali di guadagnare terreno rispetto al mercato dei pagamenti il vantaggio secondo lei sarebbe evidente perché il pagamento sarebbe immediato sicuro ed economico e potenzialmente semi anonimo e le banche centrali manterebbero comunque una posizione sicura nei pagamenti e io affermo anche di controllo e centralità del sistema perché ormai abbiamo capito che il potere passa dal controllo della moneta se la controlliamo possediamo il tutto altrimenti no avere qualcosa che è in mano di tutte democraticamente può essere decisa dalla rete sicuramente a chi gestisce il denaro a livello centrale non è ben visto quindi lagarde ritiene che le transazioni diventeranno redditizie comuni con l'introduzione di token di criptovalute sostenute dal governo quindi centralizzate l'amministratore quindi delegato del fondo monetario internazionale sostiene che essendo la responsabilità quindi dello stato queste criptovalubre sarebbero persino più sicure rispetto alle criptovalute esistenti e quindi crolla direttamente anche la sicurezza di queste criptovalute qual è la mia conclusione o il mio scenario futuro naturalmente non è un consiglio finanziario e prendete con le molle il tutto dovete soltanto analizzare voi personalmente qualunque informazione avvenga nel mercato in generale possiamo affermare questo di criptovalute ce ne saranno sicuramente meno di quelle che siamo abituati oggi nell'ordine di migliaia a vederne spuntare sempre ogni giorno di nuove ne rimarranno soltanto alcune e con delle peculiarità certe garantite non voglio fare nomi oggi però sappiate che ci sono criptovalute che hanno un servizio di sistema operativo hanno delle funzioni di gestione del traffico dati ci sono criptovalute che hanno un servizio della dell'internet delle cose cioè un collegamento meccatronico anzi direi mecca digitale quindi collegare la meccanica di alcuni dispositivi hardware meccanici quindi con il sistema di controllo della criptovalute quindi della sicurezza della trasmissione dei dati e quindi come possiamo dire ci saranno sicuramente delle criptovalute che rimarranno perché avranno un utilizzo industriale anche finanziario sotto certi aspetti e molte andranno anche a morire per quanto riguarda il bitcoin è chiaro che non possiamo già fermare se andrà verso un dollaro o meno io credo che il bitcoin potrebbe avere dalla sua parte una resistenza dovuta alla sua struttura algoritmica cioè la curva ellittica e l'rsa che sono alla base degli algoritmi di base di stampo militare delle n6 che hanno almeno si suppone abbiano progettato questo per per i bitcoin questi algoritmi per i bitcoin ne fanno uno strumento molto potente inoltre dobbiamo anche considerare che oggi le transazioni numero di transazioni giornaliere che possono essere effettuate da bitcoin non sono più quelle irrisorie che bloccavano comunque la rete ma sono di un certo livello potremo avere un'indicazione sul trend del prezzo e sul posizionamento delle criptovalute nel mercato mondiale una volta che il beta test da parte degli sviluppatori che hanno immesso gli nuovi nuovi aggiornamenti il lighting network per esempio di bitcoin e tutte le altre tutte le altre peculiarità delle altre criptovalute nel mercato come da pre mie precedenti video analisi o news che ho pubblicato dove esponevo le mie conclusioni sapete oggi che il mercato si muove delle criptovalute a prescindere da queste speculazioni da queste affermazioni di mercato in due direzioni nello stesso tempo in cui uno sviluppatore o gli sviluppatori stanno per sviluppare e creare un nuovo algoritmo o comunque una nuova base per evolvere la criptovaluta il mercato di solito va giù nel momento in cui gli sviluppatori terminano lo sviluppo e lo immettono nella rete in quel momento se il mercato va giù o va su non è importante ma ci sarà sicuramente un'elevata volatilità perché devono testare i nuovi limiti del nuovo algoritmo quindi capire se può fare mille centomila un milione un miliardo di transazione a secondo senza bloccarsi o comunque altre peculiarità altre caratteristiche che lo sto qui ad elencare sicuramente ci sono state delle esitazioni di questo tipo oggi ci poniamo anche di fronte a un mercato che cambia e quindi dobbiamo anche analizzare le news di mercato che vengono diramate e che queste impattano sul prezzo se vi è piaciuto questo video un like sul mio canale youtube commenti sono ben accetti e continuerò naturalmente a pubblicare nuovi video per cercare di tenervi aggiornati un grazie da cicli di credito investing guide alla prossima